Siamo con Albino Celato alla De Castelli, questa è un po' la sala della ricerca, dove si può sperimentare e provare nuove vite, nuove forme per i vostri materiali, vero? Qui abbiamo creato appositamente per cercare la ricerca, per cercare la ricerca, sì, per continuare a fare ricerca tutto l'anno e continuamente, non solo dedicare in certi momenti delle fiere. Qui ci sono due persone che continuamente il loro lavoro coincide con la prova, con la ricerca, con la modifica, con la continuare a fare qualcosa che non ci sia, che non esisteva, che è da fare nuovo. Qui è lasciato libero questa parte di confusione, mentre la parte di produzione io sono assolutamente manioco, perché per avere qualità bisogna avere un ambiente di qualità, quindi le altre parti dell'azienda sono assolutamente organizzate. Controllo più rigoroso. Grazie.